Quindi il tuo telefono ha bisogno di un'intera notte per caricarsi. Che scocciatura, vero? Un ricercatore di origine indiana ha trovato una soluzione. Ha scoperto un modo superveloce per caricare il tuo laptop e il tuo telefono in un solo minuto. Immagina una batteria che si carica completamente mentre ti lavi i denti. Non solo questo, ma puoi anche caricare la tua auto elettrica in soli 10 minuti. Ankur Gupta, la mente dietro questa scoperta, insieme al suo team di ricercatori dell'Università del Colorado Boulder, ha trovato un modo per far muovere le particelle cariche molto velocemente attraverso minuscoli pori. Questa innovazione può portare alla creazione di dispositivi di accumulo di energia super efficienti, chiamati supercondensatori. Non solo si caricano molto rapidamente, ma durano anche più a lungo delle batterie normali. Secondo gli specialisti, la magia sta nel movimento efficiente degli milioni. Samsung si sta preparando a lanciare una rivoluzione. Ecco Bolli, un fantastico robot domestico sferico, progettato per conquistare anche i più scettici che potrebbero aver bisogno di una mano in casa. In passato, Samsung ci ha stuzzicato con un'anticipazione di ciò che sarebbe arrivato, lasciando intendere qualcosa su Bolli già nel 2020. Ma l'attesa è finalmente terminata, poiché stanno facendo il grande passo nella creazione di un robot che funge da assistente domestico a tutto tondo. Samsung promette che puoi avere il tuo amico Bolli nel 2024. Non ci sono ancora dettagli precisi sui prezzi, ma ci stanno facendo un favore, rendendo tutte le caratteristiche di Bolli senza abbonamento. Tuttavia, Samsung non è sola nella corsa per un posto nel tuo salotto. LG è alle sue calcagna, vantandosi del proprio robot assistente pronto a fare il suo grande butto nel 2025. La Squad Solar City Car potrebbe essere il mezzo più alla moda in città. Questo veicolo innovativo è la prima auto al mondo alimentata a energia solare, progettata per la mobilità urbana e suburbana. È la soluzione perfetta per affrontare le emissioni e la congestione in città, sia che la condividi con gli amici, sia che la usi da solo. Immagina la facilità di un motorino combinata con tutti i comfort e la sicurezza di un'auto. Questo è ciò che offre Squad. Inoltre, di addio ai mal di testa per il parcheggio, agli ingorghi e alle tariffe di congestione. Questo veicolo rappresenta un cambiamento significativo. Squad si ricarica utilizzando l'energia solare, il che lo rende ecologico ed economico. Con il suo design elegante e le dimensioni compatte, parcheggiare è un gioco da ragazzi. Puoi sistemare tre Squad nello spazio di un'auto normale. Inoltre, con le batterie intercambiabili e una grande capacità di carico, questa auto è tanto pratica quanto divertente. Scommetto che c'è una cosa che il tuo corpo fa e che sicuramente dai per scontata. Andare a fare pipì. Sto parlando di quel meccanismo che abbiamo che ci aiuta a sapere esattamente quando è il momento di andare. Tuttavia, per alcune persone con lesioni al midollo spinale o condizioni come la sclerosi multipla, quella connessione tra il cervello e la vescica può diventare un po' strana, causando molti problemi. MediThings, una fantastica azienda sudcoreana, ha prodotto una soluzione che sicuramente risolverà la giornata. Hanno creato un pratico cerotto indossabile che utilizza la tecnologia infrarossi vicini per scrutare nella tua vescica e avvisarti quando è ora di andare in bagno. La persona che lo indossa riceverà semplicemente un promemoria amichevole tramite un avviso sul telefono. Basta applicare il cerotto, attaccarlo sulla parte bassa dell'addome e lasciare che accada la magia. La tecnologia non è ancora disponibile, ma stanno facendo del loro meglio per farla arrivare sul mercato il prima possibile. Preparati a rivoluzionare la tua routine di lavoro da casa con Ampera di Lifespan, il meraviglioso multitasking per tutti i trendsetter della Silicon Valley. Di addio alle noiose postazioni da scrivania e benvenuto a un paradiso a pedali che non solo ti mantiene attivo, ma ricarica anche i tuoi dispositivi alla grande. Solo 30 minuti di pedalata e voilà, il tuo telefono è a metà carica. E se ti senti veramente in forma, puoi persino ricaricare il tuo laptop pedalando come un professionista. Questo dispositivo può sembrare uno sgabello da bar con i pedali, ma è un punto di svolta per il tuo ufficio a casa. Secondo il CEO di Lifespan, Jackie Wu, l'Ampera è la soluzione ideale per chi lavora da casa ed è stufo di stare incollato alla scrivania tutto il giorno. Come ti senti quando ti vedi allo specchio la mattina presto? Personalmente di solito mi sento un po' irritabile e decisamente bisognoso di un po' di caffeina. Ma ora, grazie allo specchio intelligente BeMind della società tecnologica parigina Baracoda, nome ingegnoso, vero? Quel controllo mattutino allo specchio può essere davvero utile. Questo specchio magico può analizzare le tue espressioni e gesti per capire come ti senti e poi offrirti un coaching personalizzato per la salute mentale per iniziare la giornata nel modo giusto. Con l'aiuto della IA e dell'elaborazione del linguaggio naturale, lo specchio può fornire meditazioni guidate, terapia della luce e affermazioni per migliorare il tuo umore. Secondo gli specialisti di Baracoda, questa nuova tecnologia ha il potenziale di migliorare la qualità della vita di milioni di persone, monitorando i cambiamenti sottili nella salute. E non è tutto ciò che lo specchio può fare. Può persino aiutarti nella routine mattutina di spazzolamento dei denti e analizzare i bisogni della tua pelle. Ma la vera domanda è, può preparare una tazza di caffè? Purtroppo non ancora, ma forse sarà il prossimo aggiornamento. Ecco Custo, il gestore definitivo delle consegne che porta la comodità direttamente alla tua porta. Immagina di avere il tuo custode personale che tiene traccia di tutti i tuoi pacchi in entrata e in uscita e ti avvisa quando necessario. Non c'è bisogno di preoccuparsi dell'inserimento manuale. Custo si apre semplicemente con una scansione del numero di tracciamento del pacco, grazie ai controlli in tempo reale con oltre 1500 API dei corrieri. Puoi facilmente permettere l'accesso a familiari e amici tramite l'app mobile, utilizzando codici QR unici per visite singole o ricorrenti. Inoltre assicurati che il tuo smartphone ti notifichi prontamente ogni consegna. Fare una passeggiata rilassante è un modo fantastico per fare esercizio, ma diciamoci la verità, a volte non è così facile come sembra. Che tu stia invecchiando, combattendo qualche doloretto o semplicemente sentendoti un po' debole nei muscoli, camminare può essere una vera sfida. Entra in scena WIM, il frutto dell'ingegno dei maghi della robotica sudcoreani. Questo utilissimo gadget si allaccia attorno alla vita e alle gambe, offrendoti un incremento del 20% di energia mentre cammini. Ciò significa che puoi andare più lontano e sentirti meno sfinito alla fine della tua camminata. La tecnologia AI al suo interno analizza il modo in cui cammini e prevede persino la tua prossima mossa, diventando più intelligente ad ogni passo. Inoltre WIM non è solo per atleti accaniti o persone con necessità mediche, è per chiunque voglia rendere più vivace la propria passeggiata quotidiana. L'intero dispositivo pesa solo 1,5 kg e si ripiega in un pacchetto compatto che puoi infilare nella borsa. E se ti senti particolarmente avventuroso, WIM ha una modalità esercizio che simula la camminata in acqua, dando ai tuoi muscoli un vero allenamento. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto quelle vecchie tastiere fisiche sui cellulari, perché i touchscreen hanno dominato l'industria. Ma aspettate, Clix Technology ha trovato una soluzione brillante per quei nostalgici fan del BlackBerry. Questa fantastica custodia per iPhone riporta la sensazione della tastiera classica, grazie a un team di ex dipendenti di BlackBerry, Apple e Google. Certo potrebbe essere un po' costosa, quasi 140 dollari. Leggermente ingombrante, ma chi se ne importa quando puoi digitare come fosse il 2007? Non tutti i burro cacao sono uguali. Lip Cure Beam può sembrare uno di questi, ma è un accessorio di bellezza top. Questa fantastica trovata fa tutto, dalla diagnosi delle tue labbra alla cura di cui hanno bisogno, aggiungendo persino un tocco di colore con il trucco. Il raffinato cappuccio del Lip Cure Beam ha un sensore speciale che analizza il livello di idratazione delle tue labbra in un istante. Una volta tolto il cappuccio, hai a disposizione un pratico strumento per il trucco. Con un movimento e un'applicazione, sarai sulla strada per avere labbra morbide in pochissimo tempo. Realizzato con materiali innovativi che reagiscono alla luce, questo ingegnoso gadget lavora magicamente per potenziare le difese naturali delle tue labbra.